Beni, per un valore di oltre 500.000 euro, sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria, il GICO di Catanzaro, in esecuzione di un provvedimento di prevenzione richiesto dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Catanzaro. Il destinatario del decreto di sequestro è Luciano Trovato, legato alla famiglia di Drangheta dei Giampadina Mezzaterme. Lo stesso, unitamente ai suoi fratelli, più volte è stato coinvolto in operazioni di polizia in materia di criminalità organizzate che hanno interessato la Piana Lametina. Per una di queste operazioni, meglio nota come Operazione Perseo, la scorsa estate è stato condannato dalla Corte d'Assise di Appello di Catanzaro alla pena di quattro anni di reclusione. Le indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di Finanza che hanno consentito l'emanazione del provvedimento di sequestro hanno evidenziato una netta sproporzione tra i beni risultati nell'effettiva disponibilità del soggetto e il suo tenore di vita, rispetto ai redditi dichiarati e alle attività economiche ufficialmente svolte. I beni complessivamente sequestrati comprendono quote di otto unità immobiliari ubicate in La Mezzaterme, quote societari di un'azienda Lametina esercente all'attività di autocarrozzerie e commercio autovetture e una parte di un'attività economica che gestisce un rinomato locale della movida giovanile Lametina, già sottoposto a sequestro in ambito penale per una vicenda di interposizione fittizia di beni.